A metà marzo il secondo derby, al Santa Colomba 16.000 spettatori e quasi 200.000 euro fanno il record. Reia deve fare a meno di Fontana e Abate, squalificati 3-4-3 con Capparella insieme a Calaiò e a Pia. La cronaca, al 29esimo in azione Pia, su di lui Voria, ma l'arbitro orsato lascia correre. Il trentottesimo è il momento del Benevento, De Paula spreca una grande palla tirando sul portiere Gianello. Il portierone napoletano, al primo della ripresa, se la deve però sbrigare anche sul tiro di Colletto. E' bravo anche l'altro portiere, Lotti, al quarto su Capparella. Al sesto, sempre della ripresa, l'azione irresistibile di Calaiò. Apertura per Mora, subentrato a Bonomi, cross e stacco di tessa di Pia. La curva del Napoli è in delirio, Pia in gol. Rivediamo la bella conclusione del sudamericano, il suo tempismo, la perfetta esecuzione. Sosa entra al trentesimo e ancora una volta impiega pochi minuti per far vedere di che stoffa è fatta. Il Pampa chiude la partita. Con questa vittoria, il Napoli vola. Nelle ultime sette giornate ha realizzato 18 punti.